La maggioranza in frantumi questa mattina in terza commissione. Il Presidente ha fatto l'appello ma presto i consiglieri di maggioranza hanno abbandonato l'aula e non abbiamo potuto discutere gli importanti punti all'ordine del giorno. Una maggioranza che sempre più spesso va sotto sia in commissione sia in consiglio e questa mattina c'è stata davvero la deflagrazione della maggioranza in terza commissione dove c'erano anche tante persone che dovevano essere audite sui vari progetti di legge in ordine del giorno e soprattutto una serie di attività che troppo spesso vengono rinviate. Da settimane attendevamo la convocazione della terza commissione ma purtroppo abbiamo iniziato e presto abbiamo chiuso la commissione. Grazie.